Andiamo! Oh, dove sei andato? Pasqualino! Oh! No, non vale quella! Ma quella non valeva! Eccolo, eccolo, eccolo! Eccolo, eccolo, glielo facciamo! Dai! Spara! Devi parare! E andiamo! Nooo! Nooo! Questa la vinciamo facile! Perché io stavo facendo noi! Ma non stai con me? Ma non è vero! Dammi il portiere mio! Vai, vai, dai! Lea, ma che mi abbandoni così? Nel momento del bisogno! No, non venga, per favore! Sì! No, 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 niente guerra! Vai! Conte, eh! Arrivi, eh! Chi sei? Te lo carichi! Mammaggia! Caccia forte! Eccolo! 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 Doi甚麼, man? Quoi proprio mille? Eccolo! Eccolo! Grazie.